Ok, porca di quella puttana se c'è una cosa che non so fare quella è disegnare Porca troia Se ci fosse il modo di realizzare contenuti animati, se ci fosse Buongiorno, salve sono qui per provare una chitarra elettronica Quale vuol provare? Tutte, tutte, credo che ci vorrebbe una giornata intera Beh, non è qua per lavorare Sono qua per lavorare, non per fare da balia un bidone di escrementi Lei è uno scrianciato E tu sei uno stronzo